Allora, mi chiamo Armando D'Andrea, sono un abitante di Casoria, abitato dalla cittadella di Poggio e vengo da un punto di scala della chiesa del movimento di Focolanti mi ha invitato a parlare dentro il collaboratore di Alcambia, che è ovvio su tutti anni fa e mi ha avuto anche la relazione della chiesa, perché da venti anni abbiamo, diciamo, impegnato anche a tutti i comandariati, con gli insegnanti e informatori dei metodi naturali io sono il segretario e sono il progetto dell'associazione dei insegnanti dell'associazione di promozione sociale e lavoriamo con il Vescovo di Pozzuoli che mi piace un camminare, stiamo a favore della vita e sono stato contento di ascoltare questi nostri professori che ci hanno detto una serie di cose su una vita con il Vescovo quindi bisogna migliorare questo ambiente, la salute, anche una retequazione di rinchezza dovremmo essere consumisti, utilizzare a dividere le rinchezza, quindi ci sono un'altra fondamentale di migliorare la salute, e anche qualche desetà, ho fatto faccio parte di quella cosa di Casoria, che è un'associazione di consumanti qualche desetà abbiamo organizzato con il Vescovo della cultura, come c'è anche un'associazione di convigno, dove c'è relato il professor Montanari che è il massimo esperto, come è vero che il professore attuisce proprio nella, in questo momento, in tema di stasera e questa sera abbiamo avuto, quindi come è fatto per forza e tutta la certezza che tra la salute e per la vita, che viviamo in una zona assolutamente defassa dal punto di vista ambientale, e che quindi è importante che la nostra coscienza di massa, come ad essere l'anzionale, per impedire, per impedire, vengono imprendendo anche la nostra città. non so se tutti sapete, il professore, ci ho guardato un programma, perché era accompagnato da mie amici, anche il sindicato italiano, che non mi chiediamo a sentiamo, il professore che è andato via essa, ma in realtà, sapeva che stanno costruendo a un chilometro da qui, a sei metri, da un parco abitato da Piazzone, da una zona abitata da Piazzone, dove organizzano il convegno, con l'ossido della parrocchia della cittadetta, stanno implementando l'animo della specie, con tutta una serie di attivizzazioni, anche nel popolino di Casovia, stanno costruendo una centrale a più massa di 8,7 mili di un parato di un megawatt, c'è una bomba terribile, se noi siamo coscienti di tantissimi quasi specializzati, e siamo in una zona avanti a incidenza culturale, secondo me, e da fatto, implementare, come è un'ottimamente pieno della consiglia, che abbiamo già, e allora vorrei chiedere all'autorità presente, che sono sessi ricordati, se il sindaco è un modo di conoscere qualche tempo, qualche parte, e anche la consiglia, di morire essere le azioni, come le stesse, il sindaco di Casovia, ed è usciti, è l'esempio di funzionale a vogliare, a bloccare la città di più massa, che è un cento volte meno potente di quella che sta con lo scuoletto, cosa è lontano? Basta, io ho ragionato il funzionale di più, non mi c'è da dubbio che a me stessi, e il sindaco lo sa benissimo, io lo so, esiste un responsabile del procedimento, ho detto al pubblico, in caso di specializzatore Califano della regione Campania, il sindaco deve chiedere, espressamente, a gruppo Califano, la diamo, le faturate 200 metri all'inizio del gruppo, e la conferenza di sicurezza, di modo che porta fuori, per esempio, che non è, come è stato detto, migliate di giornalmente, che in questa zona, come è stato costruito da più massa, la zona, vantare, la secoluzione della loro, andate, non sanno sapere, è una zona, vantare, si tratta, mi dice a questo, e da subo basta accorcare, grazie.